Grazie al sangue freddo e dall'addestramento di un poliziotto della questura di Pesaro, un arresto alquanto movimentato è stato portato a termine senza conseguenze particolari, né per gli agenti né per le persone che vi hanno assistito. L'agente in questione se l'è dovuta vedere con un possente bull terrier che gli era stato aizzato contro dal suo proprietario, un 34enne di origini campane residente a Gradara, spacciatore abituale ben conosciuto dall'antidroga e con precedenti per rissa, nel tentativo di sfuggire la cattura sotto la sua abitazione dove i poliziotti lo stavano aspettando nella serata dell'8 febbraio scorso. Il poliziotto, esperto di addestramento cinofilo, riesce a neutralizzare l'animale e a renderlo mansueto e da quel punto per il pusher sono scattate le manette. Nella sua abitazione gli agenti della squadra mobile, coordinati dal dirigente Silvio Pozzi, hanno ritrovato rinchiuse in un armadio nel garage dell'abitazione 13 dosi di cocaina e 63 grammi di hashish. Gli agenti dell'antidroga, prima di arrivare all'appostamento sotto casa, avevano tentato di bloccarlo all'interno della sua autovettura al semaforo di Catabrighe sulla statale. Tentativo però andato in fumo perché il campano, con una manovra da stuntman, ha eseguito una retromarcia a tutta velocità, facendo perdere così le sue tracce. Ma la latitanza è durata poco perché gli agenti erano ad aspettarlo sotto casa. L'uomo, senza occupazione stabile, ma frequentatore abituale di diversi locali della città dove aveva una nutrita clientela che riforniva abitualmente, era diretto proprio in quei locali la sera che l'hanno arrestato. Ora il 34enne si trova nel carcere di Villa Fastigi per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.